Mister, nemmeno il tempo di godersi questa vittoria su Cittadella, già bisogna partire per Foggia, una trasferta molto lunga contro una squadra che ha bisogno di punti. C'è pochissimo tempo per recuperare, affronteremo un viaggio lungo, tutte situazioni difficili ma che non devono intaccare niente per quello che riguarda la nostra volontà di andare a fare una grandissima partita a Foggia, conoscendo le grandissime insite della gara. Ci prepareremo per essere presenti in un appuntamento complicato ma stimolante. Che squadra è il Foggia? Il Foggia è una squadra che ovviamente adesso è nei bassi fondi della classifica ma se consideriamo i punti che gli sono stati tolti, ha fatto un campionato di livello medio-alto, vengono da un periodo di difficoltà, avranno voglia di rivalza, metteranno tutto quello che hanno in campo, noi di questo siamo consapevoli, ma siamo altrettanto consapevoli che abbiamo le qualità per poterli mettere in difficoltà. Ci sarà bisogno anche allo Zaccheria della più bella qualità che ha espresso questo Verona, ovvero di avere dei valori importanti anche in tutte le fasce della Rosa, diciamo così. Qual è il determinante? Quello su cui punto tantissimo perché abbiamo una rosa di qualità e stiamo dimostrando che tutti gli interpreti possono essere protagonisti, ovviamente non insieme perché non è possibile, ma quando vengono chiamati in causa la cosa bella è che si sta rispondendo presente e di questo sono contento. L'obiettivo è quello di continuare perché è un campionato difficilissimo, le insite sono sempre dietro l'angolo, lo vediamo quotidianamente, l'abbiamo provato sulla nostra pelle e quindi in questi due giorni dobbiamo recuperare tutte le energie e presentarci in campo per fare una grande partita perché c'è bisogno di fare una grande partita per uscire da quel campo con un risultato positivo. Avevamo una bella lista di indisponibili prima di Cittadella, si è un po' cambiata, è rimasta la stessa? Oggi abbiamo fatto un allenamento, abbiamo cercato di recuperare chi può essere recuperabile, a disposizione ovviamente partiremo con i ragazzi che erano ieri pronti per la partita e in più molto probabilmente riusciremo ad aggiungere Marrone, Danzi e Mpereur da valutare in che condizioni e con quante possibilità di poter essere presenti, però li porteremo con noi perché questa è una partita in cui c'è bisogno di tutti e lo sappiamo e siamo consapevoli. In chiusura Danzi con Bulla, Tupta, in una decina di giorni tutti e tre protagonisti con la maglia del Verona è una bellissima cosa. È una cosa molto bella, mi fa piacere, ma io lo sapevo dall'inizio perché sono dei ragazzi che hanno qualità, sono giovani, non bisogna avere fretta, non bisogna caricarli di responsabilità, fanno parte di una squadra che ha grandi ambizioni, in una piazza che pretende tanto, però hanno qualità umane e tecniche che sono importanti per poter fare un percorso bello e sono contento che si stanno togliendo anche loro delle soddisfazioni, come tutti quanti gli interpreti della Rosa perché con Mara Sceglieri tutti quanti i ragazzi della Rosa hanno avuto le opportunità e sono convinto che continueranno ad averle, rimanendo sempre con l'atteggiamento che ci ha contraddistinto in quest'ultimo periodo.